Seconda corsa premio Nigodi, condizionata sul miglio per gli anziani, sono 7 al via, con l'1 Narzis Lady, Gaetano Di Nardo, il 2 Puerto Rico, Dario Battistini, il 3 Naxos Desi Francesco Pettinari, il 4 Plutone Jet Antonio Di Nardo, il 5 Matrix OM Davide Di Stefano, il 6 Privilegio Spinner Roberto Muscolini, il 7 Nukov Cloudlet Warner Martellini, parte piano proprio Nukov Cloudlet che rinuncia al lancio, di Galoppo Matrix OM, All'interno Puerto Rico che si oppone a Plutone Jet e Privilegio Spin, lungo la corda si mantiene bene in quota Narzis Lady davanti a Naxos Desi, con Plutone Jet che cerca posto nella scia di Puerto Rico, ce l'ha e si accoda, davanti a Narzis Lady rimane scoperto all'esterno Privilegio Spin per l'inserimento di Naxos Desi che precede Nukov Cloudlet, Privilegio Spin prova a ripiegare in coda dove c'è però Matrix OM che ha recuperato l'incertezza iniziale, Privilegio Spin si sistema in penultima posizione davanti al solo Matrix OM, e i 7 concorrenti sono ora dunque in fila indiana capeggiati dal favorito Puerto Rico che completa i 600 iniziali in un veloce 44 scarso, lunga fila indiana e il ritmo imposto da Puerto Rico sconsiglia avventure all'esterno ai 6 avversari, ora ha parzialmente rallentato Puerto Rico ma comunque il mezzo miglio iniziale è in 59.8 sul mio cronometro, si viaggia sul piede dell'1.15 scarso con Puerto Rico leader nei confronti di Plutone Jet, Narzis Lady ha spostato all'esterno Naxos Desi, nel frattempo il chilometro avvia in 1.14.6, Puerto Rico avanti a Plutone Jet che si preoccupa di mantenere la destra libera, in controllo su Naxos Desi che ha all'interno Narzis Lady, più indietro gli altri, ma ora Plutone Jet sposta deciso dalla scia di Puerto Rico e va ad impegnarlo in anticipo su Naxos Desi, Narzis Lady resta lungo la corda, siamo all'ingrazione d'arrivo con Puerto Rico che ha raggito a Plutone Jet, quindi Naxos Desi e Narzis Lady, Puerto Rico in vantaggio, sembra esaurito lo spunto di Plutone Jet, all'esterno del quale sta sprintando Naxos Desi, Puerto Rico in vantaggio in seguito da Naxos Desi, poi ancora Plutone Jet, Puerto Rico in vantaggio, ci prova Naxos Desi, poi Plutone Jet, nel finale Puerto Rico si difende, vince su Naxos Desi e Plutone Jet, 2-3-4, l'arrivo ufficioso della seconda di Capannelle, 1-58-4 sul mio cronometro, media di 1.14 secco per il favorito Puerto Rico, affidato oggi a Dario Battistini, da un capo all'altro il figlio di Love You, che vince controllando un ottimo Naxos Desi che è secondo davanti a Plutone Jet, rivediamo il finale con Puerto Rico che controlla la minaccia di Naxos Desi che a sua volta batte Plutone Jet per il posto d'onore, 2-3-4 l'arrivo ufficioso della seconda di Capannelle. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.